La flop 2019 di questo canale è ben diversa dalle flop degli altri canali Io questi titoli o non li ho toccati per niente Oppure li ho giochicchiati E ovviamente mi hanno fatto schifo al cazzo The Cycle, non ho capito come si gioca Death Garden, non ho capito come si gioca Left Alive, ho voluto fidarmi delle recensioni stavolta Front Mission, dove sei Front Mission? Crackdown 3 Preso con il Game Pass Mi sono accorto che nonostante Crackdown e Crackdown 2 sono invecchiati male Sono ancora dei bei titoli V-Rally 4 e Motoracer 4 Come farsi inculare a sangue della nostalgia The Division 2 Ubisoft, i miei soldi non li avrai Capito? Dammi il personaggio di Division 1 e te lo compro di Division 2 Chiaro? Altrimenti non li hai i miei soldi Ubisoft No, li hai Blasinchrom La domanda mi pongo è creato di Blasinchrom Scusa, se possiedo Contra Hard Corps Che cazzo lo compro a fare Blasinchrom? Anthem Ok Bello shooting Bel volo Bello tutto Bel sistema di gioco Oh, ma le persone? E' qualcosa da fare, c'è Grazie a tutti